I giornali sono scatenati un po' questa presa in giro della sinistra italiana come esterofila però l'essenziale era vedere che in un paese distrutto dalla crisi, distrutto dalla troica dove appunto anche il servizio sanitario, anche i servizi basici non ci sono più si è usciti, si prova ad uscire dalla crisi da sinistra Qualcuno ci ha un po' preso in giro dicendo che siamo andati in una sorta di gita mentre invece si è trattato di un vero e proprio viaggio un viaggio dentro un'esperienza, dentro la crisi tra le persone che hanno subito di più gli effetti della crisi abbiamo fatto anche degli incontri rilevanti in un ambulatorio sociale e una farmacia popolare che è la stessa struttura insomma loro si sono emozionati perché noi eravamo davvero tanti e ci siamo andati, la strada era bloccata però sono davvero commossi a vedere di quante persone erano interessate a fare la lotta insieme a loro contro l'austerità, contro l'austerity contro questi principi, contro la democrazia insomma che in Europa si sta insediando e devo dire una cosa molto bella è stata da parte di questi medici queste dottoresse erano delle donne dire che loro speravano in un cambiamento perché quegli ambulatori andavano chiusi perché il servizio sanitario pubblico andava ripristinato quanto prima il viaggio dentro un'esperienza cambia anche il tuo racconto e cambia la percezione delle cose quindi anche ti carica di una responsabilità noi abbiamo detto da lunedì per noi cambia tutto nel senso che dobbiamo accelerare i processi per quanto ci riguarda perché lì in Grecia abbiamo misurato effettivamente che cos'è la crisi che cos'è la privazione di spazi democratici e quindi diciamo noi andiamo avanti con più convinzione di prima sviluppando anche le nostre attività di relazione in Europa questo è un punto per noi fondamentale e devo dire che a partire dal comizio di chiusura che ha fatto Tsipras, Siriza e che è stata davvero che posso dire un bagno di emozioni, speranza attese insomma la speranza qualche volta non ti tradisce ecco noi questa speranza l'abbiamo colta subito lì perché era nei volti e nelle aspettative delle persone ieri al primo exit poll eravamo in tantissimi sotto al comitato elettorale, sotto questo tendone tanti giovani, tanti anziani anche che mi hanno molto colpito perché loro hanno una memoria di che cosa è stata la questione democratica in Grecia quindi le paure si sono affacciate in questi ultimi anni beh al primo exit poll c'è stata una vera e propria esplosione di gioia, di canti, di pianti abbiamo pianto tutti, pianti di gioia naturalmente ma che hanno trasformato quel tendone appunto in un luogo in cui quella che abbiamo chiamato Speranza si concretizzava e noi abbiamo un po' coniato questa cosa almeno io l'ho coniata così che il governo di Siriza al di là dei singoli provvedimenti che prenderà questo si valuterà, vedremo, vedrà ma insomma nel suo comizio è stato molto chiaro ieri sulla linea da intraprendere sul fatto che non farà alleanze con chi ha appoggiato la Troica però è assolutamente vero visto che l'ha scritto anche qualche giornale che il governo di Siriza rappresenta una vera e propria rivoluzione democratica per l'Europa perché persino Renzi, Pusillanime che non è stato capace di fare una proposta minima che consentisse di riaprire il confronto e la discussione per esempio sul debito in fondo in fondo non gli dispiace che abbia vinto Zipras proprio perché lui riapre questa discussione allora noi la viviamo come una vera e propria rivoluzione democratica che ci incarica tutti di ricostruire anche nel nostro paese Grazie a tutti per aver guardato il nostro paese